Da dove vieni Katia? Viene da Rimini, Rimini, Rimini. Cosa fai di bello nella vita? Lavora all'USL, perfetto, ok. Come vorresti l'uomo ideale? Allora, un uomo sincero, ok. Alto. Un uomo alto e sincero, ragazzi. E' buono, che sia buono, ragazzi. Alto, sincero e buono. Oh, questa signora ha le idee super chiare, ragazzi. Alto, sincero e buono. Oh, noi il senso lo diamo lanciato, eh. Non ci giriamo dall'altra parte. Ragazzi, è la numero due. Se c'è un uomo alto, sincero e buono, che venga qua. Grazie Katia, vai. Alla grande. Ciao, come ti chiami? Giuliana, che bel nome. Sei nuova? Nuovissima. È nuovissima. Nuova, nuova. Da dove vieni? Viene da Urbino. Vai, Santa Donna. Cosa fai di bello nella vita? Non fa niente. È una donna ricca. Non lo vedi neanche i santini, l'altro Urbino, no? Basta, santo. Ha detto che sei libero, è libero, sì, scusa. No, è ricca. È ricca. Ha detto che vai bene a lui, eh. No, ma è ricco lui, è ricco lui, non c'è come dire. Ma tu come lo vorresti questo uomo? Non lo sa. Ancora non lo sa. Dopo tanti anni non lo sa. Oh, da sperimentare. Beh, lui t'andrebbe bene.